A Urbani riapre il ponte della Badia, un ponte di grande importanza strategico per il collegamento della città con le attività commerciali artigiane. Quello che sorprende davvero è la puntualità con cui questo ponte viene riaperto. È un'operazione non di emergenza ma è un'operazione programmata, questo ponte aveva bisogno di interventi, soprattutto di interventi alla sismica. Devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro perché adesso abbiamo una struttura importante a servizio di un'intera area artigianale e industriale. L'abbiamo fatto nei tempi dovuti e concordati con la popolazione perché con la chiusura c'è stato un problema importante e perciò i tempi sono stati rispettati alla lettera. Ne sono orgoglioso e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e tutte le aziende, tutte le persone, le attività commerciali che in questo periodo, in questo mese, qualche giorno, hanno dovuto sopportare questo disagio. Ma l'hanno sopportato con grande dignità, con grande forza e insieme siamo riusciti a realizzare questa grande opera. Sì, è stato chiesto all'impresa di operare in tempi molto molto stretti per ovviamente andare incontro alle esigenze delle attività degli abitanti di questo quartiere. Veramente sembrava difficile da poter completare i lavori in così breve tempo, ma grazie al pressing e all'attenzione che ha messo l'amministrazione nel tenerci sempre sotto pressione in un certo senso e anche grazie alla capacità dell'impresa che si è organizzata per poter realizzare i lavori così come previsto, devo dire sì che oggi abbiamo soddisfazione di vedere i lavori realizzati in così poche settimane. Ci vuole sinergia fra le varie parti che intervengono su un'opera pubblica, ci vuole un po' di fortuna anche perché poi non sempre le imprese sono di qualità, questa volta è andata benino. Quanto è stato difficile rispettare i tempi e arrivare a realizzare l'opera in questo modo? Diciamo che non è stato tanto facile, però ci siamo riusciti grazie alla collaborazione di tutti quanti, del comune in primis, del progettista, delle maestranze tutte. Veramente mi sono trovato molto bene per questo, perché tutti quanti hanno fatto il loro ruolo puntualmente e molto bravi. Sì, dobbiamo dire che anche il tempo ha fatto il tifo per voi, perché poi è la bella stagione. È vero, è vero anche questo, è vero che anche il tempo è stato un buon compagno. Soddisfatto comunque dell'opera, di come si è arrivati a completare? È un'opera molto delicata, anche se non sembra perché sembra che sia un ponte normale, invece è un ponte molto fatto con tutti i sacri crismi, anche se è stato fatto negli anni 50, ma con dei materiali buonissimi e quindi è un ponte sicuro al 100%. Grazie a tutti.